Hai visto com'è Ricca? Bestiale. Vado a recuperare le donne, gli dico di venire fuori di qua. Ma senti un po' qual era l'intenzione della Titti, perché lei parlava di Santa Chiara, non so se si ha modificato. Prova a sentirla, adesso. Non vi dico maggiore. È veramente di una ricchezza notevole. Io questa sai che non l'abbiamo vista altre volte, perché era chiusa forse. C'erano i buchi, i buchi sempre sono stati in caro. No, non l'abbiamo visto. No, non l'abbiamo visto. Ci vediamo l'abbiata. No, non l'abbiamo visto. Grazie a tutti.